Sveglia! È il primo giorno di scuola! Possibile che l'unico figlio contento di andare a scuola l'abbiamo fatto noi. Perché è sempre così agitato? È un ragazzino felice. Oppure è solo un ragazzino che vuole fare felici gli altri? Ma perché tu stai sempre solo? Io sono Sara. Andrea. Lo so chi sei. Lo sanno tutti a scuola. Ma quello è il famoso Cristian Tonio. Che bello, guarda. Proprio che altro sono preoccupato per Daniele. Sai, no, lui è piccolo, quindi... Tu ti preoccupi sempre troppo per gli altri. Anche tu sei piccolo. Hanno stinto? Mi dispiace. Mamma, non vedo l'ora di metterli, ti giuro. Spezza catena. Beh, li sti pantaloni. Che io non anche da uomo. Ti ho messo in mani in conico E se potessi Io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi E ti proteggere per sempre Perché senza di te non sono niente Perché a me basta Che tu sia qui accanto a me Come andate con i pantaloni? Che ha detto Sara? Ti sono piaciuti? Sì. Anche se qualcuno mi ha preso in giro. Vabbè, non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. Dimmi che Si unisce al cielo Oggi mi ha preso in giro. Grazie.